Benvenuti in vetta, cari amici di MilaPS. Non solo sulla vetta del Mottarone, che ho appena salito, ma anche sulla vetta dell'ingegneria. Mi è stato concesso di guidare la MW Augusta Superveloce, Mila Serie Oro come uno dei tre giornalisti al mondo. Un onore incredibile per me e, però, un grande contenuto per voi. Rimanete collegati! Grazie a tutti! Prima di presentarvi le mie impressioni di guida della Superveloce Mila Serie Oro, ecco un breve riassunto di ciò che MW ha passato dal 1945 e della storia di questa folle azienda. MW Augusta nasce nel 1945, quando si separa da Augusta, il marchio di aerei, e si concentra esclusivamente sulle moto. A quel tempo la sede non era ancora qui sul lago di Varese, ma un po' più a sud, a Samarate, dove le moto furono sviluppate per lungo tempo. Sì, negli anni 40 era un periodo di nuovi inizi dopo la guerra. La gente improvvisamente tornava a interessarsi alle cose belle della vita, e il successo di MW continuò in tempi relativamente brevi. E fu soprattutto nelle serie da corsa che le cose decollarono, nelle cubature più piccole e più grandi che ora analizziamo insieme. Le cose decollarono davvero al più tardi negli anni 50. Con nomi come John Surtees, Mike Halewood e infine il grande Giacomo Agostini, MW Augusta vinse innumerevoli campionati e titoli mondiali. Sono molto orgogliosi di questo campionato mondiale e della storia delle corse, ma guidare costa. Le vendite non erano eccessivamente elevate e quindi già negli anni 60 l'azienda si trovava in difficoltà finanziarie o doveva essere finanziata con i proventi della costruzione di aerei. E poi, purtroppo, per un po' di tempo le cose si fecero cupe. La produzione di moto fu interrotta nel 1977 e ci vollero 15 anni. Solo nel 1992 la famiglia Castiglione rilevò i famosi fratelli Castiglione, che all'epoca avevano sotto la loro ala protettrice Cajiva, Ducati e Husqvarna, la piccola MW Augusta rilevò il marchio e poi nel 1997 fu annunciata la F4. La produzione si trasferì a Varese sul lago e iniziò una nuova era. Questa è una delle ultime F4 ad essere lanciata sul mercato, con alcuni aggiornamenti moderni, ma tutto è iniziato con la serie Euro, naturalmente, che ora analizziamo insieme. Quattro serie oro deriva dall'italiano e significa serie d'oro. È stata lanciata nel 1999 e ha vinto innumerevoli premi per il design e la potenza. Questo è il primo modello che mostra ciò che è tecnicamente possibile. Seguono altri modelli, come la Brutale o la F3, una turismo veloce. La proprietà cambia di nuovo. Harley Davidson ha una parte del tempo. La Mercedes viene coinvolta e poi, alla fine del decennio, un investitore russo interviene e vengono lanciati i modelli come la Brutale Serie Euro e, ultima ma non meno importante, la Super Veloce 800. Sempre belle vetture, ma con un contesto economico che non permette di fare un salto di qualità. Sempre belle moto, ma il contesto economico rimane incerto. Poi, in un modo o nell'altro, nessuno ne è sicuro fino al 2022, quando Pair Mobility, il proprietario di KTM, annuncia di voler salire a bordo. Con il 25% nel 2024 diventa il 50% e si arriva a questa chicca. Il Super Veloce Serie 1000 Euro 2024 mostra ciò che è tecnicamente fattibile, ma anche altri modelli come l'enduro veloce, che uscirà per la prima volta come LXP Aureole, dimostrano che il modo in cui vengono costruite le moto qui è incomparabile rispetto a quello degli altri. Il livello di dettaglio e il paesaggio mi hanno fatto fare un piccolo tour. Ho dato un'occhiata ai capannoni, ho visto le linee di produzione, quelle nuove. Qui tutto è fatto a mano, non si sente una sola macchina in sottofondo e ogni dettaglio è davvero curato. Ogni moto passa sotto la luce, puoi ritirare tu stesso la tua MV a gusta, se vuoi. E ci sono alcuni dipendenti, non pochi, che sono rimasti qui dai fratelli Castiglioni, dall'inizio degli anni 90, che hanno continuato a lavorare in MV, portando avanti questa eredità nonostante tutti gli alti e bassi che si sono verificati a livello dirigenziale e aziendale. E poi quando si vede una moto come la serie Euro della Super Veloce Mila, allora non si può che rimanere a bocca aperta. E con questo nuovo investitore, Pirren Mobility, che ora detiene la maggioranza, c'è la speranza che il marchio MV a gusta abbia una base finanziaria così stabile da potersene godere a lungo. 23 gradi MV, ad esempio, ha venduto poco più di 5.000 moto, ma la capacità produttiva qui è di 12.000 unità. C'è una nuova linea di produzione, dove ora si separano i tre cilindri e i vecchi tre cilindri, dall'altra si producono tutti i quattro cilindri, sui vecchi modelli tutti a quattro cilindri. Ora tutto viene messo su una base più stabile. KTM e Pirren Mobility forniscono supporto negli acquisti, nella gestione dei grandi volumi e nella logistica in molti settori, ma MVMV rimarrà il centro di progettazione a San Marino. E spero che questa esclusività continui a essere mantenuta qui, nonostante i volumi leggermente più alti, che si possa continuare a godere del marchio MV a gusta per una lunghezza ancora maggiore. Quindi ora si sta davvero arrivando in media stress alla MV a gusta super veloce serie 1000 euro, una moto come se fosse nata da un unico stampo. E non vi reciterò i dati tecnici perché Christoph Horvath lo ha già fatto per noi. Ha registrato un bel video che affronta anche argomenti dolorosi come il prezzo, ma anche tanti argomenti piacevoli come le dotazioni tecniche. E naturalmente oggi voglio farvi sapere come si guida, come ci si sente, perché come ho detto è tutt'altro che quotidiano per me mettere le mani su qualcosa di simile. E grazie ancora a MV a gusta e a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. La super veloce 1000 serie euro sarà prodotta in soli 500 esemplari e anche questi sono costruiti solo su ordinazione. Una prima serie di ordini è già stata ricevuta perché i precedenti proprietari di MV a gusta sono stati contattati e hanno detto che sta per arrivare qualcosa di speciale, forse volete ordinarlo, quindi il primo lotto di moto è andato. E tutto ciò che arriverà d'ora in poi dovrà essere costruito su ordinazione. E quando si guarda il moto davanti a sé si capisce perché. E bisogna dare un'occhiata ai materiali utilizzati. I diversi tipi di carbonio, i diversi spessori delle molle, una pressata e una naturale, le diverse lunghezze delle fibre a seconda della destinazione d'uso. E l'intera carena che vedete qui, splendidamente dipinta in questi stampi commemorativi di Giacomo Agostini, è interamente in carbonio. In alcuni punti MV ha deciso di renderlo visibile, in altri è semplicemente dipinto sopra. Ma è davvero solo il più fine dei fini. Non c'è un millimetro di spazio che non si inserisca da qualche parte. Credo che la combinazione di colori di questa vernice sia perfetta. Non si può fare a meno di andare in visibilio quando si parla di questo moto e il materiale in fibra di carbonio vi accompagna da davanti e addietro. Solo le ruote, come abbiamo sentito prima nell'intervista, sono in alluminio forgiato, non in carbonio. Ma ora sto già parlando delle coperture dei dischi dei freni anteriori, del sistema di raffreddamento anch'esso in fibra di carbonio. Nella parte posteriore, per arrivare al posteriore, il silenziatore a quattro flussi in titanio di Akrapovic non solo produce un suono incredibile, ma credo che sia anche visivamente molto bello. Il catarifrangente centrale, il faro posteriore, si fa notare in modo particolare. Poi il cerchio a vista, il braccio oscillante singolo, tipica caratteristica del design MV, dove questo cerchio è stato ripreso uno a uno dal prototipo presentato all'EICMA nel 2022. Questi elementi rossi incorporati danno un'impressione di alta qualità. Anche il telaio e il punto di fissaggio che è forgiato da una parte del cerchio posteriore è fantastico. Anche i pneumatici sono diablo supercorsa di Pirelli, ma sono stati dotati di un accento rosso appositamente per questo moto. Questo è disponibile solo nella MV, solo in questa serie oro. Potrei continuare per ore a parlare del cinturino in pelle fatto a mano che attraversa il serbatoio nel tipico stile super veloce, o della combinazione di alcantara e pelle sulla sella, le cuciture laterali. È tutto un pezzo unico, così bello, faccio davvero fatica a trovare le parole per descriverlo. Ma quello che posso descrivervi sono le impressioni di guida. Ora vorrei allontanarmi dai materiali e descrivervi le sensazioni di guida di una moto come questa, che in Austria costa oltre 80.000 euro. Devo dire che oggi abbiamo guidato un router dalla sede della MV Beck sul lago di Varese. È un breve tratto di autostrada e di solito non mi piace guidare la moto in autostrada. Ma qui sono stato davvero felice di poter provare, almeno in parte, cosa può fare questo motore e cosa può fare questa aerodinamica. Naturalmente non posso parlare della deportanza che deriva dalle alette, ma posso descrivere quanto sia pieno a 130 km all'ora e si può dire che è lì che si trova il moto. Queste velocità più elevate sono in realtà più comode in sella anche per motivi di comfort, perché da un lato la protezione dal vento inizia a fare effetto nella parte inferiore, ma dall'altro c'è un cuscino d'aria sul petto in modo che il peso non poggi così pesantemente sui polsi. È quindi molto piacevole impostare il cruise control a 160 km all'ora e navigare in autostrada. E poi c'è una delle curve più facili e ci si può abbandonare completamente ad essa, perché il moto è stato progettato proprio per queste alte velocità. Alessandro mi ha raccontato un aneddoto. Il collaudatore che ha effettuato i test di velocità massima con il motoveicolo a Nardo gli ha inviato una foto di lui in sella alla moto. Ha fotografato il tachimetro che segna 305 e ha semplicemente scattato la foto con il suo cellulare perché era così stabile, perché era ancora così stabile a quelle velocità che non era affatto un problema. E gran parte di questo è dovuto all'aerodinamica, ovviamente, ma anche alla sospensione. Le sospensioni, quelle semiattive, sono orientate in base alle modalità di guida. È tarata da rain, dove è più morbida, ha sport, medium e race hard. Poi c'è anche la modalità personalizzata, dove si può personalizzare tutto. E devo dire che se si guidano super sportive su strada, una sospensione semiattiva vale davvero il suo peso in oro. Ieri ho guidato la super veloce 800, anch'essa dotata di sospensioni sospensione. Ma non è possibile ottenere quel comfort residuo che un'unità semiattiva offre. Se vi sedete in sella e avete una pre-sospensione con un telaio convenzionale, siete alla sua mercè. Con la versione semiattiva, invece, bastano due click all'estremità del manubrio. E poi c'è di nuovo il comfort e funziona ancora a un livello incredibilmente alto. Per quanto riguarda la posizione di guida sulla MV, è meglio che salga e ve la mostri. Sono alto 1,87 metri. Qui ci si può sedere relativamente comodi. Anche con la mia altezza, l'angolo delle ginocchia è sopportabile, direi. Credo che la vestibilità sia ottima. La parte laterale richiede un po' di tempo per abituarsi, perché è piuttosto larga. L'angolo delle ginocchia è buono. E c'è anche molto spazio sotto le modanature superiori del serbatoio. Ma non è altrettanto facile trovare trazione qui. Anche con i jeans che indossavo, che tra l'altro sono jeans da moto, prima che arrivino i commenti cattivi. Ma, come ho detto, oggi l'ho guidata molto comodamente. Non ho esagerato, perché sono troppo riverente per farlo. Ma penso che sia possibile muoverla in modo ergonomico, con una comprensione di qualsiasi dimensione. Un altro argomento che abbiamo affrontato, o che è ormai così avanzato nel segmento delle supersportive, è la costruzione leggera. E qui MV Agusta dichiara 209 kg senza serbatoio. Il serbatoio ha un volume aggiuntivo di 15 litri, quindi siamo poco sopra i 220 kg. Non è una delle più leggere. E qui non ci sono i requisiti per le piste e le corse. Rispetto alla brutale, su cui la moto si basa, si può notare che non è stato aggiunto troppo peso in questo confronto. Anche se sono state aggiunte oltre 40 parti. Le carene e altre parti sono state riviste. Da questo punto di vista non è certo un peso leggero, ma emana molto bene la guida su strada per la quale la moto è stata sviluppata e la incarna in modo davvero convincente. Ho già accennato al fatto che qui il motore è piuttosto simile. È stato rielaborato, presenta vibrazioni leggermente inferiori e anche il suono è completamente diverso grazie all'impianto Akrapovic, completamente sviluppato ex novo. Ma il motore, anche se ora è facile da guidare sulle strade di campagna, è chiaramente qualcosa che va verso la pista. Perché la potenza, i 208 cavalli, sono disponibili solo molto tardi e fino a 3.000-4.000 giri si nota davvero che, ok, sta provando un po'. E su queste strette strade di montagna, alcune delle quali abbiamo guidato oggi, è un po' fuori luogo. Bisogna pensare bene a dove guidare questo motoveicolo e a dove esplorare questa incredibile potenza. Non so se qualcuno di voi, se sì, fatemelo sapere nei commenti qui sotto, avrebbe il coraggio di portarla in pista. Perché non riesco nemmeno a immaginare quanto debbano essere grandi le lacrime se dovesse stare su un solo lato, o quanto grande sarà il conto che dovrete pagare. Quindi ve lo sconsiglio, a meno che non abbiate davvero tutto sotto controllo. Per il resto, nel funzionamento quotidiano, il moto è molto simile a quello che già conoscete di MV Agusta. Le unità di controllo sono organizzate in modo logico. Il display è uno schermo TFT da 555 pollici, con una buona leggibilità. Le barre nere a sinistra e a destra del display indicano che non è il top del top, ma per il resto l'usabilità è molto buona. Guardiamoci le impostazioni insieme. Abbiamo diverse varianti per il display, ad esempio abbiamo indicato gli angoli di piega, quindi ovviamente questo è a circa 9 gradi sul cavalletto laterale. In basso abbiamo anche un display per le forze G che agiscono in fase di decelerazione e accelerazione. Qui posso modificare il controllo di trazione in sei modalità, dove uno è l'intervento più leggero e sei è l'intervento più forte, come nella modalità Rain. L'ABS è ancora regolabile, nella modalità Race è disattivato al posteriore. Ho poi la possibilità di disattivare o attivare il Front Lift Control, cioè l'impennata. Se ora tengo premuto il pulsante di controllo posso accedere alle impostazioni. Come potete vedere sono già in modalità personalizzata. Ora posso regolare la compressione e l'estensione, cioè l'estensione e la compressione della forcella anteriore, più dura o più morbida. Posso fare lo stesso con la posteriore. Tutto questo è semiattivo e posso anche regolare l'ammortizzatore di sterzo in singole fasi. Si può persino sentire cosa si sta facendo, che c'è un leggero intervento qui. Per il resto, le classiche regolazioni. Con le impostazioni potrei anche visualizzare un cronometro dei giri. Nelle impostazioni posso vedere cosa è possibile fare e posso scegliere se, ad esempio, l'indicatore del carburante debba essere visualizzato o meno. Altrimenti posso anche dare un'occhiata alle impostazioni della modalità gara e potrei anche collegare una cuffia per ascoltare la navigazione nelle orecchie, no? Se ne ho una collegata. Qua è più. Poi c'è la mappa personalizzata. Anche qui posso impostare il comportamento della risposta dell'acceleratore tra basso, medio e alto. Ho anche la potenza massima del motore. Oppure, come in modalità pioggia, la variante a bassa potenza. Posso poi regolare il freno motore in due fasi, bassa e normale. Posso anche regolare la risposta al gas, cioè la velocità, la lentezza e la velocità, e attivare o meno il cambio elettronico. Quindi questo è davvero il livello più alto. Il controllo di trazione è regolabile in sei fasi. Naturalmente tutta l'elettronica rispetta l'angolo di piega, compreso l'ABS. Anche l'ABS funziona con due diversi livelli di intervento. Poi abbiamo il front lift control FLC, che fissa il sollevamento della ruota anteriore a un livello. È possibile disattivare l'ABS posteriore in modalità race. Anche questa non è una cosa scontata per una moto da strada. Il pacchetto elettronico è davvero molto completo. Il cambio elettronico funziona bene, soprattutto quando lo si tira. In basso, se ci si posiziona in modo approssimativo, si può finire in folle. La moto non è progettata per questo. Spero di essere riuscito a darvi una buona panoramica di ciò che una moto da 80.000 euro fa a un pilota e anche a un giornalista. Francamente, la notte scorsa non ho dormito bene. Ero estremamente nervoso. Ma tutto è andato bene. Concludo ringraziando ancora una volta M.V. per avermi permesso di trasmettere questo messaggio. Grazie a tutti voi là fuori per aver ascoltato. Scrivetemi qui sotto chi ha già firmato il contratto di acquisto. Ditemi anche cosa ne pensate di questa serie oro. Poi non mi resta molto da fare se non salutare l'Italia e tornare a casa. Grazie a tutti.